Ciao a tutti amici Nerazzurri, questi sono i nostri profili social e questo è il video presentazione della stagione 2019-2020 della nostra page Inter per sempre. In collaborazione con la pagina solo ed esclusivamente Inter potrete vivere in tempo reale le emozioni in ogni prepartita dallo stadio Giuseppe Meazze in San Siro. Potrete caricare i ragazzi prima che partano di reazione stadio oppure potrete emozionarvi con noi all'ingresso dei pullman. Potrete vedere la nostra reazione ai rigori della nostra Inter oppure il nostro essere pazzi ai gol della nostra Inter. Potrete leggere le news delle varie testate giornalistiche che scrivono sulla nostra Inter. Questo e tanto altro sulla nostra pagina Facebook. Sul nostro profilo Instagram tramite stories potrete vivere l'atmosfera del Giuseppe Meazza prima di ogni singola partita casalinga della nostra Inter. Potrete vivere con noi gli eventi della nostra Inter con giocatori o persone della società. Potrete dare la vostra carica ai giocatori quando partono dalla stazione non solo con eventi inerenti alla società ma soprattutto non solo di giorno ma anche di notte, pomeriggio, sera a qualsiasi ora del giorno. Verranno organizzate live per stare aggiornati e verranno condivisi più post durante la giornata anche con qualche saluto dal mondo del web. Inter per sempre? Questo è un video di messaggio per Inter per sempre. Un saluto alla page per sempre, forza Inter. Un bacione. Un saluto alla pagina Inter per sempre, Presidente Morelli mi raccomando, un abbraccio. Grazie mille. Siamo qua con Matteo Bertagli per sapere quanto manca. Giovanni! Quanto manca? Dimmi se ti fa un saluto per gli amici di poco. Non lo so, mancherà poco o più. Manca un'eternità. Anche voi sarete protagonisti con qualche sondaggio o domanda? Questo e tanto altro sul nostro profilo Instagram. Sul nostro canale YouTube potrete trovare i vlog delle nostre esperienze in giro per Milano, per le visite mediche o eventi inerenti alla società. Vi portiamo con noi in ogni singola esperienza che facciamo in Europa, negli stadi più belli d'Europa e non solo. Potrete vedere il vlog della giornata completa di una partita casalinga dell'Inter. Per le trasferte invece ci sono i video reaction, mentre ad ogni partita ci sarà il commento post partita da casa o direttamente dal Mealsa. Saremo anche live con ospiti speciali per parlare un po' della situazione attuale della nostra Inter. Uscirà anche qualche altra parodia e qualche video sul settore giovanile e femminile della nostra società. Questo e tanto altro sul nostro canale YouTube. Mi raccomando seguiteci su tutti i nostri social e il nostro staff vi augura una buona stagione da vivere con noi.